non abbiamo iniziato questa sessione per paola ciao a tutti ciao 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 paola abbassano ancora un pochettino per favore che ti vedo solo un pezzo ok vai con i punti paola prego allora primo punto è il lavoro fighe a questa attività da vent'anni ho fatto tanti lavori nella mia vita o questa attività da vent'anni che mi piace sicuramente commerciante però ho degli altri e bassi incredibili vari vari cambiamenti col personale però non mi sento mai nel posto giusto non mi sento non mi sento nel mio per quanto mi piace per quanto mi piace fare maggiore perché fa nemmeno quando sarà un po più la l'inquadratura per favore perché ti vedo continuamente con solo gli occhi ancora di più un po di più ok ferma così ok ti senti non al posto giusto ma il lavoro è tuo sul posto di lavoro e ha un'attività è un attivo un negozio negozio di etica però non c'è mi piace mi piace moltissimo stare con le persone fare con la gente occuparmi di questo settore ma non mi sento come se non dovessi stare via come soltanto una sensazione e poi al lavoro per quanto ventennale non è mai decollato per come era la mia ambizione iniziale diciamo sempre un civivo ecco qua due coliche renali due coliche renali inizio con queste coliche la piccolina ero spaventatissima da questi dolori di cui di cui mi vergognavo anche quindi non ne parlavo non ne ho parlato subito poi una cosa ancora più grave che mi sono stata risolverata per questa cosa e poi non si sono più presentate fino all'età adulta e sempre in concomitanza con le mie relazioni di coppia quando la cosa cominciava ad andare male mi arrivavano le coliche quando sono tendenzialmente single nel periodo della mia vita che sono single non ho mai niente che volevo capire ok con sofferenze di coppia no senza di coppia tendenzialmente poi cadute frattura piede sinistro sono caduta molto spesso nella mia vita sempre in età adulta e l'ultima anche anche in questo caso sempre nelle quando sono in relazioni se sono single non cado mai è l'ultima come strada a casa con le che cadi dove cadi strada anche passeggiando l'ultima caduta mi sono fracassata al piede totalmente ho fatto fatto facendo posteggiando passeggiando 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 ok hai dei problemi di connessione per caso perché ti abbiamo persa per qualche secondo no no tu l'hai persa stefania ok va bene va bene andiamo avanti tre memoria e moria ecco una memoria che veramente non ricordo quasi nulla della mia vita infantile soltanto dei flash non è stata una grande vita infantile a volte mi dico la voglio cancellare io perché non mi piace però poi di fatto anche ora anche da adulta non ho memoria dei posti ma me li dimentico leggo e dimentico o soltanto dei flash particolari vengono impressi ma la mia memoria sia storica ma anche recente faccia faccio veramente fatica ricordare posti che vedo cose che faccio e memorizzo proprio poco anche quando cerco di studiare facendo veramente fatica come il corso in inglese no 3 volte 3 volte interrotto perché comunque ci passo tanto tempo ci prova ci ritrovo ma non mi rimane nulla quando poi devo mettere in pratica è sempre complicatissimi vorresta spiegarmela che è passati troppi anni dalle scuole non lo so due matrimoni due convi 34 due matrimoni due convivenze poi dopo poti a noi mai messi nel senso che comincio a peggio da matrimoni diciamo fatti un po per inconsapevolezza un po per superficialità e non riesco ancora a capire come sia successo le convivenze invece sentite desiderate volute e poi per dopo un po di tempo le cose cominciano a non funzionare più e mi prendo anche parte delle responsabilità assolutamente e niente chiaro spero di incontrare l'anima gemella però non credo di averla ancora incontrata una cosa che volevo dire che non è che dopo che vi ho scritto poi ho visto la vostra la sessione quella delle fiamme poi ho incontrato una persona che in questo momento sto vedendo e quindi ero curiosa ma quella del delle fiamme di dicembre e fiamme ok che è l'attuale compagno compagno conosciuto un mese fa definirlo compagno un po prematuro però però vi vedete ma ci stanno visti tre volte quindi veramente anche perché non è vicinissimo e come l'hai conosciuto sentiamo guardato una tramite un'amica che mi ha detto iscriviti a una chart di incontri che è una cosa lontanissima da me e casualmente insomma siamo conosciuti vivi ci siamo visti tre volte ma come c'è la sensazione di conoscerlo una cosa che non riesco a spiegarmi molto ok quindi lontano si può sapere la regione piemonte tu sei in lombardia si in danimarca può essere lontano pantelleria va bene c'è pure il lavoro che non ti piace ti frega te ne vai ok perché mi hai scritto disobbedienza totale ora su cosa non c'entra con non sopporto 5 dormi per 40 anni poi fai un seminario di reiki e poi visualizza il tau azzurro e non scrivi a fiori e non sapere che cosa fosse tutto cambia ai vari ai tre livelli di reiki ma non lo applichi brava brava che non lo pratichi intuisci pensieri risposte tutti insegnati direi che ce l'avranno come come diceva una volta una canzone a me che mi importa io sei giovanna non me la ricordo però questa frase mi permetto di dirla perché ormai è un'età e quindi me ne importa veramente sega di quello che pensano gli altri è comunque la canzone è il freak mi sembra una una roba di discoteca cantata da un tipo corista non cercheremo non era proprio una cantante una corista una che bo ha conosciuto le persone giuste ha fatto un disco cosa fa cosa bevi che stefania beve grazie grappa grappa trasparente a volte vodka file ferro potrebbe essere nel mio caso la grappa sarda anche io quasi anche va bene la fiamma mi interessa molto la mamma e la disincarnata tu e sapere tutto sulla fiamma mi piacerebbe piacerebbe sapere mi interessa molto l'argomento iniziamo la mamma cotone ma come si chiama mamma che chiamare testa del partner fina tina ernesta che non è un ufficiale ernest e lei non piaceva a che faceva chiamare fina fina tina 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 con la tv torino che iniziamo ti disattivo il microfono ci vediamo grazie devi solo dire se in quadra cima direi di sì va bene adesso che ti stendi sei inquadrati ok perfetto va bene conto da 51 stefania si è già praticamente connessa a paola ma in questo modo di colore connetti ancora di più 5 4 3 2 1 la vedo vedo paola e la vedo mentre insegna è una vita passata una vita precedente a questa e vedo mentre insegna insegna dei bambini bambini piccoli in età scolare quindi ma potrebbero essere 5 6 7 anni all'incirca una classe mista dall'autorizzazione sì ok perché ci fanno vedere questa scena la sua ps perché mi sta mostrando la sua attitudine e abilità ad insegnare quindi ad insegnare in quel caso i bambini però è portata è molto portata per l'insegnamento cosa che in questa esistenza non ancora approvato non ancora messo in campo anche se è molto strano perché ho avviso di paolo non si vedrà però da quando tu hai detto questa cosa lei molto commossa ed è un grande sì con la testa come se questo fosse il suo sogno diciamo interpreto giusto paola è esattamente quello che tu vuoi fare lei fa un'attività commerciale quindi non c'è niente che vede non ha niente a che vedere con l'insegnamento ogni tanto meno i bambini e come da quanto hai detto insegnamento bambini che lei ha iniziato a sorridere a fare sì con la testa e adesso anche un po commossa è una sua vita precedente o un immagine io penso che potrebbe essere una vita precedente ma anche una competenza quindi una potenzialità quindi è come se mi facesse vedere in parte da dove arriva però che è proprio una cosa che che riguarda la sua la sua natura proprio come lei sia insegnare inteso non come educare gli altri ma portare un messaggio portare una conoscenza e anche l'insegnare legata sì proprio un po come una missione ora nel suo campo non può metterlo in atto a meno che non faccia dei corsi legati a all'insegnare la sua materia dei corsi di formazione però vedo che proprio la competenza e la capacità e la tra più che la trasmissione di una formazione è proprio una parte del donare la conoscenza la vedo molto bene legata ai bambini anche agli adolescenti in effetti ok vediamo un attimo velocemente i suoi soliti valori vibrazione 150 miliardi non so cosa per città di consapevolezza 140 per cento psp in ps vedo se 70 per cento e trenta la pia vite precedenti 1630 per cento e diceva l'utilizzata ed è un 5,7 ok ma la vibrazione è molto molto alta al di là del fatto che ognuno alla scossa la sua scala anche tu 150 me lo dice alla fine se va bene sì perché effettivamente tanto causa e di quest'altra vibrazione la risposta che mi arriva insomma dal ps che ha fatto molte esperienze e ha accumulato molte conoscenze molte conoscenze e una consapevolezza alta che mi dice anche che poco si manifesta poco lei manifesta perché poco lei mette in pratica quello che la sua consapevolezza la sua conoscenza al momento attuale però è presente c'è una vibrazione che in effetti è molto alta come fosse un potenziale più che una parte che manifesta proprio un grande potenziale di base questa vita da insegnante è tra le 1.630 sì vedi il numero di che vita è stato 1.400 1.400 1.408 va bene io direi di procedere in maniera nuova oggi perché vi bene grandi tanti punti di paolo che avete tutti sentito ma il clou è la fiamma se la fiamma chiamiamolo un certo di incontri tutto per caso incontrati in un mese e mezzo tre volte ma lei ma lei ha dei sospetti e questo avviene dopo la sessione del 21 dicembre fiamme sì la vedo lo vedo e li vedo allora li vedo intanto uno di fronte all'altro che invece di darsi invece di darsi una mano si danno due mani come se fossero così collegate così e si tengono così due mani direi proprio di sì li vedo uniti come quando vedo le fiamme si è una fiamma vedi la stessa ps come la vedi la vedo ma io la vedo proprio con la forma di una fiamma quindi una base così e poi che sale su che si chiude sopra e la vedo la parte di lui in questo caso che questa esistenza maschile la vedo azzurra invece la sua parte la vedo rossa rossa rosa rosa intenso rossa si è così chiamalo è arrivato saluta dice ciao come lo vedi dice fisicamente no energeticamente energeticamente comunque lo vedevo abbastanza alto chiaro devo dire che energeticamente io non lo vedo che emana molto energia emana energia quando è arrivato l'ho visto che aveva dell'azzurro come la sua parte di fiamma diciamo di ps che fuoriusciva da dal corpo quindi la sua struttura fisica la parte fisica è una parte che proprio inondava verso l'esterno e si aspettava di essere chiamato e devo dire chi ha più consapevolezza dei due sono anche poca pochissima differenza vedo anziché come se all'inizio mi fosse venuta da dire lei e poi lui è come se la scala un po oscillasse a volte lei a volte lui alcune cose lei alcune cose lui ma sono di qualche punto percentuale se vogliamo dirla così così oscillano poco sulla conoscenza del sé chi vince 32 in questo sono allo stesso livello capacità medianiche allora potenzialità lei nelle sue capacità di base lui ha delle capacità vogliamo dire medianiche delle parti che lei non ancora conosciuto si possono definire medianiche come la possibilità questo ecco credo che l'essere stia già accorgendo lui la capacità come non è proprio consapevole al cento per cento ma come di uscire da se stesso uscire in eterico e incontrarla quindi delle volte lei si trova si è trovata in questo mese e mezzo a pensarlo e a sentirlo come se fosse quasi vicino lei lui non lo fa proprio consapevolmente però questa cosa allenata lui la può poi proprio portare nella mattia sul piano fisico più concretamente consapevolmente adesso lui lo fa come se si la pensasse una parte di lui si staccasse una parte eterica e la raggiungesse e poi ritorno questa è una sua capacità medianica io lo definirebbe proprio così se lei allora scusami e ancora inizia ha iniziato gli è sembrato però poi se ci penserà dopo la sessione capirà si accorgerà anche quando lui si avvicina e lei non può farlo lo stesso lo potrà fare ma non ho ancora mai fatto non pensava neanche che fosse possibile lei c'è qualcuno ci ha parlato di questa cosa se poi tra l'altro paola cedero la luce almeno ti vedo perché sta diventando tutto buio lei ci ha conosciuto di questa cosa sembrava un po come non orientata ad andare fino in fondo sì mi sembra insomma curiosa ma molto cauta c'è una causa esoterica la causa esoterica ma una causa esoterica questo è una parte legata un entità mentale che era spingente rispetto alle relazioni cioè lei crede le vuole incontrare una persona ad amare che l'ami quando questa persona si avvicina le inizia a mettere in atto dei meccanismi affinché questa vada così non magari lo vediamo poi bene nelle nelle quando vediamo le entità mentali per cui è come lei avesse preso un po consapevolezza di questo meccanismo no da dopo l'ultima relazione di questo meccanismo come si dice di non repulsivo ma di allontanamento no che fa sì che le persone si allontanino e ne consa inizia essere consapevole per cui è come dire non voglio ripetere questa modalità ho bisogno di una persona ma non voglio entrarci totalmente per non dover arrivare a quel punto lì per cui è combattuta però lei vuole una relazione vuole una fiamma intanto prima ha scelto che vuole una fiamma intanto va bene vediamo l'entità eteriche allora dai sì mentre parlavo ho visto intorno a lei soprattutto nella nella fascia superiore come un blocco un'onda nella parte sopra la testa fino alle spalle qua come una proprio una una cupola questa è legata all'entità mentale in effetti è però mi è comparsa per prima invece vedo come entità eteriche si nascondono allora vedo degli edl questa è diciamo che è un arrivo legato proprio alla cosa che ha detto prima di praticare grechi si e sono lì sono proprio le fissi piantati soprattutto quando ha capato il canale energetico per per entrare in contatto con gli altri questi lavorano in quella maniera di poi vedo un'entità menta scusato un'entità eterica vedo un falconiforme io lo vedo posizionato alla tezza dell'addome però comunque lì presente falconiforme è un burrettiliano stop queste due dna sento e gli edl mentali i mentali vedo questa questa entità mentale grande che legato appunto alle relazioni e lo vedo proprio come un fumo una cosa intorno fino alle spalle questa entità mentale legata al meritare al non meritare l'amore non meritare di fermata un messaggio di questo tipo il livello detto no sì non l'ho detto alla dire che adesso è 3 tendente al 4 ma quando era piccola era anche 6 quando era piccola quando era in casa ma quando era quando anni sono iniziati alcuni problemi legati alle colite era livello 6 in effetti questo passa da 4 a 6 quando a questo ritorno di convinzione quando c'è una fine di una relazione o lei decide che finirà la relazione inizia a manifestarlo sul fisico e sale a livello 6 comunque c'è sale a livello 6 e lei inizia a manifestare sul fisico ok poi altre questa grande voglio vedere se c'era un collegamento con una collettiva perché questo è proprio tanto grande si vedo ne vedo un'altra questa è collegata a un'entità mentale collettiva che legata al al posto è legata a dove stare e non so come chiamarla ma al cui non qui non sto bene ma ci sto sto qui anche se non sto bene perché non saprei dove andare non so se può dire allo anche no è un livello 4 è collegata un'entità mentale collettiva ai fisica cioè fisica e sua ed è legata a un'entità mentale collettiva sì 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 la sua e la 4 ed è però collegata al sto qui perché non so dove altro andare perché non so dove altro potrei stare bene questo anche il lavoro per il lavoro per il lavoro e per il posto la residenza impianti allora ne ho visti prima uno a livello dei reni che va a lavorare con quello mentale lavorano insieme ne ho visto uno a livello del piede sinistro se non sbaglio dove ha avuto la cadu la frattura e poi ne vedo una all'altezza degli occhi uno grande come fosse uno schermo come fossero degli occhiali quelli per la visione virtuale aumentata che servono questi servono da che li devo toccare questi servono questi se li mette ecco questi non sono messi da qualcuno ma se li mette lei quando non vuole vedere qualcuno ok quando ha paura che stia arrivando un uomo con cui può avere una relazione un po paradossale però proprio perché c'è questo suo meccanismo di che respingere spingente ad un certo punto della relazione è come se lei si mettesse una protezione per non arrivare fino a lì a quel punto lì e come se lei si proteggesse dall'incontrare le persone dall'incontrare un potenziale uomo con cui avere una relazione questo impianto e ha funzionato con l'incontro della del tizio della fiamma no in tanti altri sì perché perché la chiamano che è la più bella si è la più bella energeticamente la più bella cioè quando deve arrivare una fiamma non c'è nessun impianto che permette di oscurarla c'è una fiamma e è una un incontro deciso deciso dalla ps e da tutte le fiamme no quindi non non c'è niente che può non farle incontrare proprio niente quindi lei poteva avere su tutti gli occhiali del del mondo potevano esserci anche interferenze eteriche però un incontro di una fiamma è un incontro che non può essere evitato ok quindi la causa di svariati lavori del lavoro attuale che le piace ma non fino in fondo e del posto non giusto è l'abbiamo visto no mentale in esita mentale ma anche perché in effetti in sé a questa parte dell'insegnamento per cui potrebbe pensare di indirizzarsi verso l'insegnamento non per forza in una scuola o verso dei bambini ma nel portare la conoscenza quindi studiare e portare la conoscenza di quello che sta agli altri causa delle coriche coliche renali sia da bambina se in età adulta quando si ritrovava all'interno di una sofferenza di coppia quello che che appunto accennavo prima è collegata all'impianto mentale no all'entità mentale legato alla relazione e anche all'impianto che a fisico all'altezza dei reni lavorano insieme questi due punti a questa entità mentale che la mette in guardia diciamo così o non la fa sentire sicura nelle relazioni sentimentali effettive quella è presente è presente costantemente va ad agire va a condizionare la parte legata all'impianto dei reni come se si andasse ad attivare e quella fa scaturire fa scatenare questa parte fisica e le fa questo effetto qua fisicamente come se nel momento in cui si attiva io vedo come un bottoncino questo bottoncino quindi parte della parte mentale va ad attivare a premere su un bottoncino questo bottoncino da come un segnale ai reni vedo in particolare bene sinistra con ai reni e circostazione qua di costrizione così in particolare vedo sinistra però voglio dire può irradiarsi anche a destra e stringe come se struttosto una spugna poi si allarga stringe così ma non ho capito il nesso con le relazioni di sofferenza in sofferenza perché questo impianto è collocato lì nei reni è collocato nei reni essendo collocato lì va come se ci fosse un ponte e poi nel suo caso quello che vedo che i reni fanno sono proprio la parte sensibile del quando oltre all'impianto oltre all'entità mentale lei si sente abbandonata cioè fanno un po' la cartina intorno a sole di quando lei si sente sola o lasciata o abbandonata ma in generale da sola cioè questa parte dei suoi reni è sensibile da che era piccola perché anche in famiglia lei vedo che è come se avesse vissuto spesso degli abbandoni degli abbandoni emotivi per cui una parte che già era sensibile in infanzia ma c'è anche sempre stato questo impianto proprio lì messo a metà tra i reni anche quei grandi sorrisi e testa che annuisce di paola ok cadute frattura piede sinistro se non ho capito normale anche questa in ambito di sofferenza di coppia allora lei radicione pianto a sinistra dove c'è la caviglia sinistra però quando mentre le raccontava questa cosa della caduta lei è un po un sensore no cade quando c'è un tradimento nel senso che non è la prima magari e lo so ma io no io penso che lei questa cosa l'abbia intuita non abbia intuito che la caduta era legato a un qualcuno che sta facendo stava facendo un'azione nascosta nei suoi confronti però penso che lei sapesse avesse già intuito che alcune delle la relazione in cui è caduta diciamo che dovesse frattura tal piede dove ha avuto una caduta insomma è stata una relazione in cui lui non era fedele ma io sento che questo lei lo sapeva già per cui se lei fa attenzione da qui in poi no spero non debba fare attenzione però o meglio se lei fa memoria delle esperienze passate e si ricorda può ricordarsi quando ha battuto battuto abbattuto o è caduta e lì riesce a collocare le volte in cui è stata tradita tradita non per forza intendo ma in particolare il tradimento con un'altra persona ma a volte un tradimento in cui c'è stato un tradire la sua fiducia ma grande c'è non ho detto un segretuccio quindi queste due circostanze lei ha fisicamente ha avuto un contraccolpo perché energeticamente lei l'ha percepito ok il film fatto in campo quello che sta facendo lei così lo possono vedere tutto il pollice in su ok e il fisico quindi la sua parte energetica ha rilevato questo tradimento e ha rimandato un segnale al fisico lei non l'ha saputo tradurre però per lei vale questa regola qua quando c'è una caduta lei deve guardarsi intorno deve capire da dove arriva questa questa persona da eliminare insomma dalla sua vita ecco quindi diciamo che è un segnale della ps ma non è un segnale non so vedo donne con le gonne rosse vedo passerotti petti rossi cose no è una caduta quindi la relazione è caduta non è caduta si è stata tratta in inganno cioè quindi quando c'è un inganno lei ha questo se questo preciso segnale fisico passare una caduta può essere anche sbattere può essere anche sbattere in un modo un po violento ecco non solo ho toccato immobile cioè lei la sua ps di segnala così quando c'è qualcuno di molto vicino intorno che la fa tradendo la sua fiducia oppure relazionalmente insomma va bene cali di scarsa memoria causa superiore se vedo chiedendomi questo vedo che è come se la vedo con indosso un cappotto come se tutto quello che è un'immagine simbolica tutto quello che a lei non piace non è piaciuto lei lo rimuove non lo dimenticano di rimuove lo mette via e lo lascia lì in realtà quindi è una è una cosa che lei sta scegliendo cioè lei la sua ps stanno scegliendo di mettere via tutte quelle che sono state le esperienze sgradevoli può decidere di ricordare però prima di decidere di ricordare deve decidere di avere il coraggio di vedere e perché non ha ricordi di infanzia e la risposta è simile perché ci sono state vedo parecchie esperienze dell'infanzia che le hanno portato sofferenza sofferenza e quindi lei vuole dimenticare ma non le ha dimenticato se vuole mi ripeto le può tirare fuori di nuovo perché dimentica l'inglese questo è un punto diverso lei dimentica l'inglese lei quando vuole studiare una cosa lei lo dimentica perché per imparare una cosa lei ha bisogno di fare l'esperienza ad esempio se vuole imparare dei nomi delle cose lei deve toccare quella cosa o comunque deve toccare il disegno deve fare un'esperienza col corpo allora alla programmazione di quella di quella cosa per dire per imparare l'inglese lei deve soprattutto parlarlo non studiarlo quindi non solo toccare fare e fare esperienza ma questo mi è arrivato mentre lei diceva questa cosa dell'inglese che è una modalità di imparare si dice così cinestesica no quindi legata anche una parte tattile una parte del movimento quindi quando impara una lingua o una cosa in genere lei deve muoversi muoversi vuol dire fisicamente la impara mentre cammina anche in casa oppure e non oppure ma e la parla quindi ne deve fare subito l'esperienza dalla prima lezione altrimenti lei l'inglese l'ha voluto imparare non perché le piaccia ma perché le vuole impararlo quindi si fa una costruzione e lo mette di nuovo nella cassetta delle delle brutte esperienze dei brutti ricordi e quindi se lo riprende con questa condizione questa inglese andrà se verrà sempre accantonato mentre se lei inizia dalla prima lezione a fare l'esperienza fisica a parlare a provarlo a sentire dei dei film delle canzoni ne fa esperienza fisica lei può portarlo all'interno molto velocemente questa è una domanda interessante ha avuto due matrimoni due convivenze poi si annoia io un paio di lecce la vorrei ma non so per provare dire tu no no vai vai e ci aggiunge la tua parte che con la roba lì non ho capito in che senso non ho ganciato tenerla libera per la fiamma adesso capita ma chiedo è non è detto che se no io guardo in quella direzione anche ma lei si è lei ci ha detto che intuito che l'ha conosciuto con lo specchio delle fiamme della sessione fiamme numero non me lo chiedete mille tu vedi la stessa cosa che lei l'ha conosciuto lì che lei l'ha visto nello specchio ma io vedo che la fiamma era in arrivo già da tempo il fatto che l'abbia visto lì ne è stata consapevole lì ma io vedo che diciamola così è in attesa da una decina di anni mi arriva questa informazione qua come se lui diciamo l'aspettasse da dieci anni c'è questo incontro era era sospeso doveva esserci poi le ha avuto delle relazioni nel mezzo e lui ha avuto altre relazioni si sono in qualche modo scelto di incontrarsi adesso però era già io vedo una decina d'anni che poteva questo incontro poteva avvenire prima ma è stato scelto adesso sessione 1024 21 dicembre 2021 questo non è il primo caso che ci arriva in questi termini allora mi viene da chiedere io avevo firmato con me stesso il contratto di fare quella sessione il 21 dicembre che poi tra l'altro è anche una data abbastanza importante diciamo seguiamo un portale energetico io l'avevo firmato quel contratto con me stesso di fare quella sessione perché pare che abbia avuto degli ottimi effetti e pare che questo discorso delle fiamme a delà dell'agenzia matrimoniale infinitum sia effettivamente no paola è una disobbedienza totale no sulla porcheria del periodo che stiamo vivendo ecco questa l'arma più importante più potente è una bomba atomica quindi non è soltanto la relazione tanti cuori e mazzi di fiori è proprio una è tanta roba è proprio tanta 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 roba è l'antidoto al veleno è l'antidoto a tutto il sistema che non funziona mi vedo bloccate senti senti se vi siete sbloccati adesso allora ha detto e tanta roba non ho io sentito tutto in realtà ti c'è visto bloccate mi ha sentito parlare sempre anche paola ok quindi solo l'immagine era bloccata ok e quindi cioè io picchio su sta cosa cioè non è la prima nel tonico esatto non nostro amico emanuele stessa identica cosa conosciuto una ragazza il 21 pomeriggio la sessione del mattino era quindi sì no ma ciao emanuele capire l'ho fatto io questo contratto con me o l'abbiamo fatto insieme si vede diverse pieze nella scelta è stato portato a galles emerso grazie a te alle spalle vedo tante altre pieze che hanno deciso che anche che tu arrivassi fino a quel punto lì che si arrivasse fino a quel punto lì si vale bene queste ps poi mi dici chi sono ovviamente saino anche a chi mi riferisce ecco guarda contro la quella cosa lì perché poi vabbè che ci siate voi ci sia emanuele è ovvio no santa potenza vedo anche quelle ps a cui ti riferisci così tanto e vedo che c'è una particolare che sta saltando la corda saltando la corda sta facendo esercizi salta la corda però lo vedo anche come un gioco come se facesse anche passare un po il tempo in attesa di che va bene va bene va bene ok cosa fa la fiamma di paola adesso noi lì in piedi e lì in piedi ha sempre ascoltato ma è lì vicino lei parlano io vedo che parlano stanno comunicando lui è molto carino e devo dire a livello energetico carino forse non calza lo vedo molto una persona anche dolice dolce come accudente accudente sì ecco hai detto il termine giusto e lei fa figo la testa bello ma vai no paoli ma va aprire la macchina va solo per noi in vita quali sono quali sono le capacità di questa di questa coppia di fiamme vediamo se ci sono delle capacità e la loro o delle delle fiamme generale generalizzare in effetti poi bisogna prendere ogni ogni fiamma però loro nel senso loro sono cioè il loro progetto fiamme è solo ed esclusivamente per stare bene o per esempio per sviluppare il vero talento lei l'insegnamento lui qualcos'altro allora io vedo che è come se adesso si dovessero chiaramente frequentare no quindi conoscere quindi consolidare la scelta come loro fisicamente ma anche come ti essano consolidare la scelta arrivati al punto del consolidare vedo che intanto loro li vedo molto in movimento come viaggiare spostarsi come molto più itineranti rispetto ad adesso sia lei lei in particolare lui ve lo vedo già più mobile però io da quello che vedo il discorso fiamme importante non solo per l'unità e rincontrarsi della fiamma ma perché come progetto collettivo più fiamme e più forza quindi è come se fosse stato dato là con la sessione fiamme si fosse reso consapevole dell'importanza delle fiamme e del rincontro da lì ci fosse stato là a tante fiamme per la possibilità o lo strumento per tante fiamme di rincontrarsi lo strumento e quindi di conseguenza il potere l'importanza delle fiamme oltre di congiungersi di per sé importanti per loro ma proprio come collettività come se fosse in effetti l'antidoto diciamo l'antidoto ecco per si superare e per te per trasformare il sistema questo sistema di cose comunque trasformare a livello globale ok veniamo al corso di reiki che la risveglia lei visualizza un tau azzurro a fiori senza più o meno sapere neanche cosa fosse tutto cambia lei non ama meraico comunque non lo pratica non lo applica non è la sua strada ed inizia a intuire pensieri risposte quindi inizia a sviluppare una spiritualità una delle capacità mediani che che è successo allora io quando decine si è risvegliata io vedo come questa cosa simbolica come quando una persona sogna ci sta sognando e sogna di risvegliarsi all'interno del sogno cioè è un sogno all'interno di un altro sogno è come se il corso del reiki l'avesse risvegliata ma all'interno di un altro sogno più o meno mi sono spiegato o no lei si è sbagliata per un mio quindi facciamo conto la maia lei fa attraverso questo corso si è risvegliata continuando a dormire provo a dirla diversamente allora attraverso questo corso lei ha preso consapevolezza che esisteva una parte che di cui non era conoscenza e con cui entrata in contatto però quella parte può essere ancora più possono essere tolti degli altri veli pulita 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 ed è l'entrare in contatto con la sua ps per cui adesso quello che lei fa sente dei pensieri delle cose lo fa come posso dire agganciata agli edl ok come e come se gli edl si prendessero delle delle competenze che non appartengono a loro attraverso noi mettono un po la convinzione in testa che lo si può fare attraverso questo altra forma di energia no mentre invece non hanno nessun merito perché questo contatto tu lo puoi avere direttamente con te stessa quindi scremando quella parte tu vuoi sentire quello che pensano gli altri entrare in empatia chiedi la tua ps di permetterlo cioè per dire no scremando quella parte quindi è ha capito attraverso il corso che c'era un'altra parte ora capito questo puoi togliere quella parte e collegarti di più alla fonte diciamo così va bene lei destinato a fare reiki ma vedo che lei già non usava proprio reiki puro vedo che lei lo chiamava reiki ma era proprio un po più l'essere più in contatto con le sue inconscio con una parte più una parte più profonda di sé quindi era già un ibrido qual è la sua capacità medianica più evidente e sopita però è più naturale più naturale più naturale è una cosa simile a quella che fa lui in effetti la sua fiamma ma lei la fa il mondo diverso lui porta una parte di sé vicino a lei per dire anche vicino ad altre province e invece come se lei collegasse ma si pensa ecco pensa ad una persona quindi chissà come lei se lo chiede tra se se non sa che fa quello ma chissà come sta quella persona cosa fa entra in contatto con la coscienza della persona o col pensiero della persona seconda è come se lo chiedesse alla persona la persona risponde e lei ha l'informazione così quindi è come se collo col ti collegasse e andasse a contattare un'altra io la chiamo coscienza però un'altra parte in eterico di un'altra persona all'informazione e lei dice a mi sembra che sia così in realtà l'informazione l'ha avuta direttamente da quella persona quello è una sua capacità bene chiamiamo la madre per un portale aureo va ancora la mamma è che abbiamo tutti i parenti tutte le generazioni di paola quelli che si presentano possono già andare sì vedo la mamma che passano dietro vedo anche bambini stanno passando invece la mamma la vedeva un po con una una posso chiamare aura una una parte energetica rosa intorno la luce rosa si avvicina in realtà si avvicina non rimane lì sul portale si avvicina a lei come per conoscere la fiamma c'è sta avvicinata per vederli vicini tutte e due vicine e come se stesse conoscendo lui lo sasco sì cosa vuole dire si è andata a presentare praticamente no già si è andata a presentare no così e la vedo molto contenta molto tranquilla vuole dirle che contenta che l'abbia incontrato che era tanto che lei aveva piacere di vederla serena tranquilla ed è contenta di vederla di vederla così anche se non sa paola adesso esattamente quanto sarà contenta però e di vedere questo incontro è molto contenta e molto si sente tranquilla in pace ecco questo nella seguito vedo che così fa questo gesto tipo come di una carezza gli saluta tutti e due sia lei che lui e lui e anche mi viene solo da dire questa parola ma lui è molto carino veramente molto dolce lo vedo che anche in eterico e così quindi fa fa così alla mamma fa una carezza paola fa una carezza paola e saluta la mamma ma così con molta dolcezza sia lui che la mamma lui vuole lasciare un messaggio a paola adesso dirle in eterico una cosa che non l'ha mai detto finora di lasciare ma scusa metto interrotto no no hai fatto bene di lasciarsi andare io non so se si sentono tutti i giorni allora lui dice questo poi lei chiaramente farà finta di non aver sentito queste cose così sarà naturale con lui e lui gliele potrà dire di persona però lei avrà sarà un passo avanti allora quello che lui dice quello che lui dice di lasciarsi andare nodi di fidarsi di fidarsi di lui e di fidarsi della loro scelta quando tu hai detto ma si sentono tutti i giorni si sentono tutti i giorni si sentono tutti i giorni lui dice sì certo però le ogni tanto si discosta cioè nel senso che ha paura lui sa la sente che ha paura e ogni tanto lei in qualche modo si ritrae come se risponde al telefono però come se si facesse desiderare aspettare in questo modo qua lui sa che è una strategia cioè sa che è una cosa che lei fa c'è strategia nel senso che che lei ci tiene ma che fa per proteggersi per paura di star male no per cui lui glielo lascia fare cioè è molto accogliente molto paziente paziente accogliente carino ce l'ha tutte no quindi le permette di di avere il suo il suo tempo il suo ritmo questo bene la madre cosa vuole fare della mamma ha salutato tutti e ma è pronta ad andare sì sì ok la salutiamo anche noi in passata e andiamo con paola e se vuole la fiamma seguirla con anche la fiamma nel cluster di paola però perché se la ps è in comune di cluster no qui ci sono i contratti delle vite di paola paola si è fatta delle sue vite e le sue esperienze poi è possibile che ci siano anche delle vite insieme quindi magari dei contratti non dico in comune ma simili e lui la compagna dice dice se puoi o la con se posso l'accompagno certo che può sì 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 si sono insieme vediamo allora qua il cluster lo vedo come una bella stanza una stanza di quel tipo di una di una di un museo con arte ci sono avendo dei quadri appesi dei più che dei quadri dei piatti di quelli disegnati pitturati così appesi tanti piatti appesi e vedo dei quadri vedo uno stile mi viene da dire tipo rococo che trompe insomma queste due robe mi arrivano e lì dove ci sono i piatti sono i contratti dietro ogni piatto c'è un contratto sì riteniamo no no lei li stava guardando per vedere per vedere i disegni delle varie pitture del colcro no 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 le vuole buttare via tutti portale definitivo e via aperto come una cerniera e lì il portale definitivo ha buttato via tutto bene facciamole creare una d'eterno lo mette qua ma deve creare da sola insieme a lui stila no lo faccio lei si assisti la tuccia non devi farlo tu però se lo fa poco potente lo fa male lo fa in fretta il segnale a farlo più se il meglio possibile la tirata sudam ha fatto così con le mani e la tirata su così così l'ha fatto ovale come una palla da rugby però lo stampo sistemato ok l'ha fatto a posto c'è avatar ok siamo all'avatar mai lo vedo di schiena come un di nuovo io lo vedo come una sagoma come una sagoma bianca bianca con il bordo azzurro ma sorridevo perché quando si amate l'avatar lui la fiamma praticamente stava prendendo come la rincorsa per andare a buttare via e però si è fermata insomma una cosa che farà lei si ha fatto un votato via tutto sì sì è fatto ad eterno ma che qua ok ha fatto queste nuove condizioni impianti ad action entità eteriche entità mentali tutto quello che abbiamo visto e non visto se c'è ancora no non c'è più niente con queste nuove condizioni vediamo no mettiamo una d'eterno ne 5 ad eterno nei cinque corpi di paola uno nel corpo fisico dove lo mette mette l'altezza all'altezza del cuore questa zona in realtà molto ampio corpo mentale si lo mette dove c'era prima quella grande entità mentale quindi qua corpo emozionale lo riposiziona a questa altezza qua è leggermente più in basso dove c'è anche questa il plesso solare eterico lo mette che copra tutto il corpo questo anche l'altro l'ultimo subliminale anche mette un doppio strato si vabbè nuova vibrazione 200 miliardi nuova consapevolezza cento 65 per cento psp 62 per cento la la ps vite precedenti erano 1.630 e 2.458 cervello 57 7,2 vabbè la fiamma di paola ha fatto qualcosa per se e ha creato ha fatto delle cose durante la sessione per i su cluster le sue emozioni le sue frequenze non ha fatto niente solo le dava dei bacini ma tipo da lontano le dava dei bacini vicino sulla fronte dopo che lei ha tirato giù il cluster il l'avatar dopo no mentre io mentre lei creava le adeterno avevano da mettersi sulle parti del corpo sui corpi lui le dava dei bacini aveva dei bacini come si chiama questo incontro c'è un nome dell'incontro delle fiamme c'è un nome l'incontro delle fiamme ha un nome di tutte le fiamme o questa questa io vedo un nome ma il nome che vede la la playa che la la spiaggia però perché la playa ma perché lo vedo più da parte di lui questo questo nome il motivo di questo nome come se lui avesse un'idea molto romantica tra l'altro dell'amore no e dell'incontro e la spiaggia con il sole con con l'immagine che mi rimanda è questa come proprio una spiaggia un'alba un tramonto questa parte qua messaggio finale di paola se stessa di rischiare cioè che quello che lei percepisce come rischio è un'opportunità quindi di darsi crearsi e darsi delle opportunità e di coglierle perché da qui indietro lei grazie a causa di questa di questi occhiali che si è messa si è preclusa e ha evitato tante opportunità affettive anche in amicizia anche nei sentimenti e anche lavorative proprio perché ha sempre visto il cambiamento come un rischio quindi cambiare come un rischio invece la ps le sta dicendo che di cogliere le opportunità quelle che la ps stessa le porta davanti ai piedi diciamo così di entrarci di coglierle di non vederle come un rischio ma come una possibilità un'opportunità va bene che altro chiediamo come si chiama la ps di paola e quindi anche quella della fiamma sai che la ps ha un nome no come si chiama questa ps adesso vedo anche con nome spagnolo vedo pablo pablo ok chiediamo pablo la ps di entrambi di crearsi il suo proprio uomo energia che se le abbraccia insieme adesso sì 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 l'ha fatto l'ha fatto come lo vedi l'uomo energia e io lo vedo bianco morbido abbraccioso lo vedo alto marco no 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 ma io lo vedo morbido morbido abbastanza ingombrante morbide con braccia non quelli bello bello e poco no 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 cioè non lo vedo come un'una persona lo vedo proprio come una sagoma morbida un po come una nuvola una nuvola morbida insomma tipo un grande marshmallow però di una forma così è così che è stato creato immagine finale di paola dopo l'abbraccio del suo uomo energia marshmallow la vedo luminosa per quel lucente non dorata come spesso mi capita e luminosa bianca quindi una bella luce e la vedo la vedo brillante la vedo contenta molto più consapevole in effetti la vedo quasi sospesa in aria come immagine come un troppo un'altra vibrazione e lui e lui lei si stava ho detto quasi sospesa in aria e ho visto che lei tendeva la mano verso il basso e lui tendeva la mano verso l'alto cioè nel senso che non si possono proprio staccare questi due ragazzi capito dovevano riavvicinarsi li vedo li vedo bene li vedo bene anche lui si sente disconnetti da tutto e tutti e torniamo continuo a registrare dimmi dopo la polizia quando si è pronto ci sono conto da 15 al 5 sarei al tempo presente dal quale sto parlando 1 ora 3 4 e 5 apri lentamente buonasera stefania come sono la sera bene cena tutto prego paola stiamo ancora registrando attivo pure il tuo microfono hai detto un buonasera sardo buona sarà io ecco ti ecco ti ecco ti ecco ti ti vedo ti sento non vedi più me non vedo più tempo adesso torna adesso torna come stai paola cosa ci racconti non trovo l'aggettivo incredibili veramente incredibili e sono emozionata molto quando avete parlato dei bambini allora volevo dire un aneddoto quando ero piccolina il mio gioco preferito era fare la maestra e mettere i voti mi ha fatto veramente emozionale e invece il mio sogno di bambina era farla poricultice quindi avere a che fare con i bambini quindi assolutamente preso tutto in questo in questi termini bene stefania tu dal tuo buio cosa si può raggiungere no voglio aggiungere che è stata una bella è una bella esperienza incontrare te la tua fiamma vedere come vi muovete in eterico cioè come anche lui spero che tu presto possa vivere vivere quello che ho visto insomma non sarebbe più consapevole ecco di questo io sto cercando di arrivare la filale non va ma comunque mi sentite no bene intanto fermiamo alla registrazione vuoi aggiungere qualcosa paola non so sì è una cosa dei bacini sulla fronte è già successo che lei ha visto in eterico questa posizione particolare della fronte è così fatto già così è anche un'altra cosa quando tu hai detto che li stavate aspettando eccolo questa frase della giudetta si stava aspettando mi ha fatto abbastanza impressione vai vai buttati buttati che sei anche fortunata ma è alto vediamo se c'è una corrispondenza tra la visione eterica e la realtà posso bloccato adesso io ti vedo io ti vedo si è alto come l'ha visto stefania e si è alto alto è tornato tutto e come l'ha descritto io vabbè nonostante l'abbia visto poche volte però come ti ho spiegato all'inizio non mi sembra così poco però sì sì come l'ha descritto è assolutamente anche nel nel reale dicevi stefania scusami perché non vedendoti non si si ha ragione e no lui lo si l'ha visto alto l'ha visto come posso dire anche i capelli un po sfrangiati se no non cortissi c'è non corti lo vedo un po visto un po chiaro anche come come la mamma ci sta che voglia conoscere cioè questa cosa ovviamente sapato in eterico quindi tutto da prendere con le pinze con le molle però era una signora così poi vedermi sistemata si ma si è proprio si è andata era proprio contenta come dire adesso che sono qua vado la conosco quindi tutto è nato da un app diciamo di dating no e quindi dobbiamo fare un app di dating anche noi assolutamente tu vivi questa esperienza per me per insomma dico per noi in generale che così poi insomma portate avanti infiniting devo chiedere a qualche programmatore di fare un infiniting facciamo facciamo il link della sessione 1024 e poi iscrivi nell'app che nel tempo qualcosa sono persone serie e non e non e non per di tempo finiva esatto per i vaccati questa importante l'avevo messo però nella mia descrizione l'avevo chiesto e non è cilipaccato fino a una bella 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 ma ancora che siamo cotto gatti siamo rimasti va bene chiudo la registrazione che è stata ragazzi ancora si fa